Ciao a tutti e buona giornata! Spesso ricevo mail nelle quali c'è scritto Fabio, io il tuo libro sono interessato a comprarlo, però prima vorrei vederlo, capisci? E quindi io ho pensato, hanno ragione queste persone. Quindi fate così, andate in un negozio di musica qualsiasi nella vostra provincia, basta escriviate, non so, abiti e como, strumenti musicali como, e troverai tutti i negozi che vendono strumenti musicali e anche probabilmente il mio libro. Qui a Modena due negozi di strumenti musicali ci sono e ambe due hanno il mio libro e adesso ve li faccio vedere. Se invece il libro non c'è, tu puoi dire al negoziante di ordinarlo a questo indirizzo, infochioccioladantoniemusic.com Ed ecco i due filmati che ho fatto questa mattina nei due negozi di musica qui a Modena. Ciao a tutti ragazzi, sono a Modena, attenzione al negozio di Vitaliano Nolusvardi, in Casa della Musica, via Cesari 7, a Modena. E come vedete qui c'è una copia del mio libro che aspetta di essere acquistata. Quindi ricordatevi, ho fatto tanta pubblicità al mio libro sul web, infatti su Amazon IBS sta andando benissimo, ma ho trascurato questa meraviglia, guardate questo negozio che bello che è, stupendo. Quindi venite qui a Modena o nelle vostre città, entrate, prendete tanta musica e se avete qualche soldino che rimane, anche il mio libro. Grazie. Ciao ragazzi, siamo in un altro meraviglioso negozio di Modena, si tratta di Lenzotti, guardate che bello. E anche qui trovate senza difficoltà il mio libro, quindi mi raccomando, andate anche nei negozi di musica, comprate tanta musica e se vi avanzano un pochino dei soldi, prendetevi il mio libro. Qui siamo da Lenzotti a Modena. Ciao ciao. Ciao.